I saldi ovviamente non sono andati bene, nel senso che rispetto a quello che è stato l'anno scorso, quello che è mancato sono soprattutto i turisti, non ci sono i turisti, non c'è gente dall'estero, per cui il volume d'affari ne ha ovviamente risentito, quindi siamo molto 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 indietro rispetto a quelli che erano i volumi degli scorsi anni. Anche l'italiano però non ha tutti questi soldi, perché oltretutto la maggior parte delle aziende hanno avuto la cassa integrazione, per cui c'è stata una riduzione drastica del denaro in casa, per cui anche lì l'italiano tende a spendere molto meno di quello che si poteva permettere gli scorsi anni. E' importante almeno non chiudere, aggiungiamo un altro buchetto alla cinghia, la tiriamo un pochino di più, ma noi siamo resistenti, resilienti, rimaniamo qui e siamo qui pronti a combattere, a tirare fuori tanta roba di qualità, dai servizi all'abbigliamento, quindi noi combattiamo con la qualità e cerchiamo in questo momento di sopravvivere, poi faremo il salto di qualità secondo me appena avremo debellato questa emergenza. Per quello che riguarda la fiera siamo ovviamente amareggiati perché non si fa, quindi per dare rinuncia alla manifestazione, però anche se molto a malincuore accettiamo la mancata apertura della fiera, della manifestazione. E' chiaro che la fiera, che è una delle più grandi d'Italia, per noi è un bel toccasana dal punto di vista dell'incasso, però d'altronde noi stiamo anche considerando il fatto che se poi c'è una recrudescenza del Covid, soprattutto a Pesaro, se vengono problemi dal punto di vista sanitario a noi non ci fa comodo e preferiamo continuare ad avere il mercato cittadino.